Yogurt fai da te, un solo prodotto, tanti perché. Cremoso, acidulo, perfetto sulla Macedonia, sorprendente sull'insalata. Lo yogurt è buono e fa bene, parola di bene. Già nel secondo secolo, l'illustre medico greco lo utilizzava come terapia per le malattie dello stomaco. La naturale regolarità delle donne è un problema antico come il mondo. Fabbricarlo in casa non solo conviene, è anche etico. Lo yogurt industriale per arrivare sulle tavole percorre in media 1500 km, costa 5 euro al litro e viene confezionato in vasetti di plastica monouso. In pratica, inquina. Che mondo sarebbe senza yogurt fai da te? Parliamo di prezzi. Un litro di latte costa poco più di un euro. È sufficiente farlo bollire, aggiungere fermenti lattici, riporre al caldo, 40 grammi circa, lasciare riposare per 8 ore. Et voilà! Difidus activus come se pidesse. In un colpo solo renderete felici il pianeta, intestino e borsellino. Dello yogurt come del maiale non si butta niente. Se avanzato, può tornare utile come maschera di benedetta, nutra, idrata e schiarisce l'invernato. Libere e belle grazie allo yogurt fai da te. Yogurt fai da te. Tanto! Con foto!